Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la seconda edizione di Zombicide, o per meglio dire il reboot della serie appunto di Zombicide, nuova edizione dell'Akmon e portata in Italia da Asmod Italia, che io ringrazio veramente di cuore per averci offerto questa copia per la recensione ed è sempre un grandissimo onore collaborare con voi. Quindi si aspettava da tanto, se ne era sentito parlare, mi era salito un hype disumano, anche perché non ci sono grandi cambiamenti, ma le miniature che ci sono dentro, ve le farò vedere in fase di unboxing, fanno veramente paura. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Premetto subito che vedete un monitor qui davanti, uno schermo, una tastiera, computer nuovo da gaming, tra cui ci abbiamo fatto anche un video, questo è il suo ufficio e il posto è sempre meno. Infatti, vedete, questo è metà tavolino, ci è rimasto per fare video, unboxing, partite e tutto quanto e stiamo aspettando tanto fra un massimo due mesi, traslocheremo, faremo un trasloche, quindi comunque ci andremo a sistemare sicuramente meglio di ora con una postazione dedicata appunto al gaming, quindi per ora, se vedete, monitor e schermo è roba che non si può più spostare, perché proprio non c'è più un millimetro vuoto. Si parla di Zombicide, si parla della seconda edizione a cura di Cmon, che a differenza della prima edizione che vedete qui davanti, questa qui era la primissima, ha introdotto qualche cambiamento, nemmeno poi tantissimi, l'idea del gioco è sempre lo stesso, è un gioco cooperativo dove bisogna fare missioni singole o collegate a creare una campagna, perché questa volta hanno inserita anche una campagna, contro gli zombie, dovremmo sopravvivere in questo classico film hollywoodiano, dove tutti, dove la gente di polizia ha il fucile a pompa, un po' alla Rick Grimes, un po' lo sceriffo, dove la ragazza con i pattini a rotelle, con la motosega affetta tutti gli zombie, è visto ovviamente in chiave, sembra quasi più un film dell'asylum, però è visto proprio in chiave cinematografica estrema e anche un po' burlone nel suo, cioè non è mai stato un gioco che si prende troppo seriamente. Gioco da 1 a 6 giocatori, dai 16 anni in su, scusate 14 anni in su, ma io abbasserei anche a 10, proprio perché forse perché si parla di zombie, nemmeno poi più di tanto, è un'oretta, più o meno un'oretta, un'oretta e mezza a partita che dovrebbe bastare. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Nuova confessione di gioco, il disegno che richiama molto quello vecchio, per quanto con una nuova colorazione digitale e tutto quanto molto molto bello, vedete Zombicide, seconda edizione, della Cmon e gioco portato in Italia, quindi in edizione italiana da Asmo d'Italia. Bellissimo, poi una scatola immensa, disumanamente grande e c'è il mondo dentro, c'è veramente il mondo. Apriamo. Manuale di gioco, bello, corposo, cicciotto, tante pagine, ma perché? Perché ci sono anche le missioni, quindi è il regolamento e il libro delle missioni, classico, vedete, con tutte quante le note sopra l'immagine, per farvi vedere il movimento, linee di vista, le regole principali del gioco, i personaggi poi sono sempre gli stessi, a parte i bambini, insomma. Quanto conosciamo, ho già visto, le carte che vanno a rappresentare le armi di partenza e le armi che troverete, distanza, dadi che si tirano, soglia minima per colpire e tipo di danno, quantità di danno, livello di danno e nient'altro, è lo stesso. Anche quando si passa di livello, si va a vedere i colori per le carte dei mostri, Zombicide. Qui sotto va bene, classicità, delle porte, degli oggetti da trovare, magari delle casse da aprire, i segnalini suono e quant'altro. Questa è tutta roba che abbiamo già visto come componentistica di token e abbiamo le solite plancette, queste qui, di plastica dura veramente che Dio le benedica perché servono da morire ed evitano anche di stamparsene in 3D per metterci l'equipaggiamento, la carta del personaggio come vedete in questo caso qui un bambino tutti quanti i punti esperienza che si possono fare tra l'altro finalmente hanno capito che questo ci andava attaccato senza farcelo mettere a noi a parte quindi si muove per andare a indicare i punti esperienza che partono dal blu, giallo, arancione e rosso e poi ovviamente qua su in cima mettiamo tutte quante le carte che abbiamo nell'inventario. Il classico mazzetto di carte grandissimo per equipaggiamento carte prototipo, carte degli zombie per la generazione e quant'altro e poi abbiamo le classiche basettine colorate per i nostri eroi, tutti quanti i piruletti che vanno a segnare i punti esperienza quindi la barra dell'esperienza dei nostri eroi e poi qua giù ci sono le miniature anche i dadi da 6 e le miniature che ci sono all'interno sono qualcosa di spettacolare partendo semplicemente dagli abomini che qui sono 4 questo è uno dei 4 abomini ciascuno di loro è differente come miniatura e in più ha delle regole speciali questo è il secondo è un altro per farvelo vedere e sono 4 ciascuno differente e anche a livello di regole un runner e ce ne sono differenti la cosa bella è che dentro la scatola non trovate quasi mai la stessa miniatura sono quasi tutte differenti e sono veramente bellissime ad esempio quello runner donna mentre quest'altro guardate bello fa veramente paura con tutte quante le schegge di vetro piantate nel collo piantate ecco forse è per questo che chiedono 14 anni o più e poi qualche eroe che sono gli stessi del gioco della vecchia edizione ad esempio lei se ve la ricordate con la katana lui col fucile a pompa e poi come vi avevo detto c'è la possibilità di giocare anche nei panni dei bambini ci sono anche i ragazzini che hanno un punto ferito in meno e delle abilità particolari che gli adulti ovviamente non hanno ed è bellino perché ci dà la possibilità di giocare con un gruppo misto oppure con un gruppo dove sono tutti quanti bambini ed ha un nuovo spessore al gioco ecco veramente veramente spettacolare è una bella alternativa vi faccio vedere un po' come funziona il regolamento è sempre lo stesso quindi vi rimando al vecchio ai vecchi video di Zombicide perché poi abbiamo fatto anche quello in versione medievale fantasy li vedete tutti qui dietro e Invader che ci manca la terza scatola non vedo l'ora di prenderla il regolamento è lo stesso non è cambiato praticamente niente se non hanno secondo me un pochino raffinato qualche regola che ci stava ad esempio prima vi ricordate nel setup iniziale del gioco c'era da mettere le porte per come la missione ti faceva vedere che andavano messe ora no le porte sono già disegnate sul tabellone quindi se quell'edificio c'ha la porta lì in tutte le missioni la porta è sempre lì di quell'edificio ed è già ti facilita ti velocizza molto di più il setup voi ci dovete andare a mettere il token porta rotta unicamente quando la sfondate nient'altro altre regolucce veloci quando andate a sfondare una porta non dovete fare il tiro d'attacco nei vecchi zombie sai sì dovevi tirare il dado vedere se colpivi se colpivi avevi rotto la porta ora non più la porta si sfonda automaticamente ma farete baccano e attirerete gli zombie ci sono 4 abomini non soltanto uno come avete visto in fase di unboxing ce ne sono 4 e ognuno di loro è differente come abilità ed è molto carino perché voi non sapete mai quale abominio potrebbe capitare in campo e non è il semplice abominio che dovete fare 3 ferite per ucciderlo ma è un abominio che magari vi blocca gli attacchi in corpo a corpo quindi non potete fare nient'altro che morire o scappare o disingaggiare oppure c'è quell'altro che magari è un altro tipo di abilità sono 4 abomini differenti come miniature differenti come abilità e forse la regola che ho apprezzato più di tutte è quella di quando si va ad aprire la porta di un edificio vi ricordate per ogni stanza bisogna andare a girare una carta incontro degli zombie per vedere quanti zombie e se si genereranno nelle varie stanze dell'edificio ora non è più così soltanto nelle zone buie perché più belline da film se entri in una zona completamente illuminata magari già da fuori vedevi che non c'era nessuna da una finestra da qualcosa invece le zombie si vanno a generare unicamente nelle zone oscure buie della mappa quindi se nella casa che aprite il bagno e il salotto sono al buio lì si andranno a pescare carte per generare zombie beh non male le novità sono queste si fa sempre il tiro per colpire si fa il tiro per vedere se tiri nello stesso tile se è colpito se manchi il colpo è colpito un alleato le regole ragazzi sono le stesse identiche spiccicate di Zombicide ci sono questi piccoli cambiamenti in più forse il cambiamento maggiore più grande che abbiamo sopravvissuti adulti quelli del gioco di base oppure abbiamo anche sopravvissuti bambini dei ragazzini che hanno un punto ferito in meno invece da avere tre ne hanno due però magari hanno abilità speciale quello magari si muove più velocemente carina come idea di poter giocare gruppi misti adulti e bambini o perché no anche uno Zombicide solamente con dei ragazzini ed è molto molto bello e poi vabbè le miniature che ci sono dentro l'avete visto e fanno paura in conclusione è una nuova edizione che a livello di regole non porta tantissime novità secondo me raffina un pochino più le regole che c'erano prima precedentemente e l'ho apprezzate tutte dall'A alla Z però ad esempio non introduce la regola quella di Zombicide Invader che se voi avete un'arma che fa un danno però tira tre dadi non potete uccidere un grassone perché ci vogliono due ferite se la tua arma ne fa una non lo puoi uccidere però magari invece di tirare tre dadi tiri un dado però la tua arma fa tre ferite perché vai a sacrificare i dadi che tiri per aumentare il danno e lo puoi uccidere qui non c'è io l'avrei messa perché forse di Invader è la regola più bella ti dà la possibilità di salvarti anche se non hai l'arma giusta qui invece se non avete la Molotov l'abominio non lo buttate giù e quindi comunque le regole sono sempre le stesse hanno voluto fare questa nuova edizione anche per non ce n'era tantissimo bisogno di rifare le miniature ma queste a confronto di quell'altra sembrano che quelle vecchie abbiano 30 anni di differenza sono belle però è un po' l'effetto Games Workshop le miniature che ci sono ora di Indomitus da qui a 5 anni diremo mamma mia come sono brutte visto belle quelle nuove è normale c'è bisogno un po' di svecchiare col tempo che passa e quelle che sono qui dentro sono veramente disumanamente belle gioco consigliatissimo a tutti i fan ma non solo secondo me anche chi vuole provare Zombicide a questo punto visto che hanno fatto questo reboot partite direttamente con questo quindi io ringrazio di cuore Asmo d'Italia per averci fornito questa copia per la recensione è sempre un onore e un piacere collaborare con voi se lo volete ordinare primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato e vi ricordo se lo trovate in lista ma è finito o proprio non ce l'è in lista comunque scrivete a Corrado il proprietario al supporto e ditegli che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan e usate sempre lo sconto il codice discount Coridan7 come vedete a nota per avere uno sconto del 7% per spese superiori ai 79 euro spese postali gratuite in 48 ore con corriere in tutta Europa quindi comunque è un bellissimo servizio e dateci un occhio non vi dimenticate del codice sconto fatemi sapere cosa ne pensate e il re secondo me il re della Lea del tirare milioni e vagonate di dadi e di pieni tabelloni pieni zeppi di miniature e massacro zombie ma è dire più massacro sovravvissuti perché non si riesce quasi mai a finirne una è tornato pompato veramente al massimo ciao ragazzi alla prossima